Sono contentissimo di stare qua e non vedo l'ora di fare bene con la mia nuova squadra anche perché mi hanno accolto tutti a braccia aperte, dalla società ai compagni e non vedo l'ora di dare il mio contributo. Anche il mister lo conoscevo, conosco Marco Ciarcellutico, ho fatto il settore giovanile con lui, con l'Ascoli e non posso dire nulla. Tutti bravissimi ragazzi, bravissime persone e bravi lavoratori e voglio fare bene con loro. Sì, posso fare sia la punta centrale che la seconda punta, il trequartista. Per me non è un problema, sono a disposizione della squadra. Ma innanzitutto speriamo di portare a casa i tre punti, poi che sia con un mio gol o meno sono contento uguale. L'importante è portare a casa la vittoria.